Il libro di Becchetti al CTEUR, senza euro italiani tutti più poveri. Per fortuna che nessun partito rilevante né in Italia né in Europa chiede più che l'Italia esca dall'euro perché se ciò accadesse 60 milioni di italiani si troverebbero in un istante più poveri del 30-40%. Il brivido lungo la schiena dei soci del circolo Tennis EUR lo ha fatto scorrere il professor Leonardo Becchetti, uno dei primi 100 economisti del mondo, nel corso di un incontro dibattito svoltosi al CTEUR. L'occasione era la presentazione del libro di Becchetti, Neuroscettici perché uscire dall'euro sarebbe una follia, svoltasi nel quadro del programma CTEUR Cultura 2019 organizzato dal vicepresidente del circolo Bruno Costi. Il benvenuto a Becchetti lo ha dato il presidente del CTEUR, Vincenzo Vecchio, che ha fatto dono all'ospite del libro sui 50 anni del circolo ed ha lanciato la discussione che poi avrebbe animato tutto il pomeriggio. Poi è stata la volta di Costi che vestendo i panni dell'avvocato del diavolo ha provocatoriamente rivolto a Becchetti tutte le critiche dei no euro. Becchetti ha replicato ad una ad una a tutte, per esempio alla più fallace, quella secondo cui uscendo dall'euro potremmo spendere a volontà perché basterebbe stampare banconote a volontà. Magari fosse così, ha risposto Becchetti. Sui 214 paesi esistenti al mondo nel 2016, 80 sono andati in bancarotta e sono proprio quelli che hanno stampato banconote senza limiti. Le monete vivono con la fiducia di chi le fa circolare. Stamparne senza limiti riduce la fiducia, fa scappare i risparmiatori, fa salire i prezzi e fa fallire un paese. Molte le domande da parte dei soci, tra gli altri Rosario Corzo, Gino Bellotto, Marco Fagiolo, Massimo Di Menna, Alberto Stancanelli e al termine la convinzione ancora più radicata dopo le risposte che il nemico dell'Italia non è in Europa o nell'euro, ovvero al di fuori di noi, ma nella nostra capacità di correggere le storture nazionali. Al termine della presentazione Becchetti si è fermato a firmare e dedicate le copie del libro dei soci, poi l'abituale cocktail in onore dell'ospite.